L'Emilia Romagna ha già vissuto il suo passaggio, quello delle strade provinciali ad Anas. La scadenza del 7 aprile è stata rispettata e ora tocca la Lombardia, per la quale ogni giorno è buono da qui al 30 aprile, data della scadenza, per la consegna dei verbali. Già oggi conosciamo le strade che passeranno sotto il controllo di Anas e per un totale di 1.075 km in tutta la Lombardia in Emilia sono stati 872. Nel dettaglio abbiamo i quasi 90 km della Padana Inferiore, dal confine Emiliano fino al confine Veneto, passando anche per il tratto Mantovano, gli 8 km della Padana Superiore in zona Castelgabbiano, ossia a nord della nostra provincia, i 53 km della Solana in tre diversi tratti e i 14 km della Castelnovese tra Casal Maggiore e Via Dana. Non si parla dell'SP33 sulla quale insiste il Ponte Verdi di San Daniele, solo per restare un esempio importante. In totale per Cremone, considerando anche la propagine mantovana che si lega al comprensorio Agliopò, si parla di 165 km di strade, un passaggio fondamentale e per capirlo basta pensare ai 948 interventi di manutenzione che Anas ha in cantiere in tutta Italia per un totale di 1.660.000.000 di euro, senza dimenticare le 51 nuove opere in corso, per un totale di 4.782.000.000 di euro. Interventi che per Cremona saranno poi da valutare quando verranno consegnati i verbali, ma considerando i problemi legati alle strade e ai viadotti sul Po, è questo un tocca sana che la nostra provincia attende e che, come conferma chi ci è già passato, Diego Rossi, presidente della provincia di Parma, fa ben sperare. Il passaggio ad Anas dell'infrastruttura ci porta a questo punto a sollecitare il nuovo proprietario del ponte, appunto Anas, a chiudere questa parte preliminare con il lavoro che abbiamo fatto e naturalmente anche da parte nostra la sollecitazione va in primis al Ministero, ma anche ad Anas per riuscire a reperire le risorse che poi serviranno a realizzare il nuovo ponte che dovrà essere realizzato nei prossimi otto anni.